buongiorno sono gianluca petroni della geileria petroni e questo natale abbiamo deciso di avvalerci di rossini tv come spot pubblicitario e abbiamo avuto un grandissimo riscontro la visibilità è stata ottima molti clienti ci hanno comunicato aver visto lo spot su rossini tv e oltretutto l'organizzazione al video promozionale che abbiamo fatto è stata gestita molto bene da rossini tv e siamo soddisfatti gioielleria petroni dal 1970 la tua gioielleria di fiducia